Lei ha già provveduto a pagare? Certo, certo. Ho pagato un botto di soldi, come a conto. Poi vedremo a dicembre che cosa verrà fuori, insomma, secondo delibera del comune. L'abbiamo già pagato, io almeno ho pagato. I cittadini baresi, quando si tratta di dover mettere mani al portafogli, hanno bene in mente le scadenze e gli ultimatum. Ma forse non tutti sanno che il prossimo martedì è l'ultimo giorno utile per pagare la prima rata di Tasi e Imu. Palazzo di città si appresta a ricordarlo perché, a differenza della Tari, stavolta a casa non arrivano bollettini o promemoria. Si paga l'Imu, in soldoni la vecchia ICI e la Tasi, la tassa sui cosiddetti servizi indivisibili. Aliquote per questo primo acconto ferme al 3,3 per mille. Un leggero sconto dovrebbe arrivare col saldo di dicembre. Sono più di 100.000 i contribuenti baresi, gli esenti totali quelli con ISEE inferiore a 10.000 euro. Per le altre riduzioni valgono le regole dello scorso anno. Per il 2015 qualche novità, ricorda l'assessore al bilancio Dora Savino, intanto che registrandosi sul sito del Comune di Bari con i dati della carta d'identità è possibile verificare qual è l'immobile associato al nostro profilo e calcolare così gli importi di Tasi e Imu. Sul sito del Comune, ricordiamo www.comune.bari.it è previsto l'elaboratore e quindi il calcolo dell'F24. Il cittadino barese può registrarsi sul sito, inserire le proprie credenziali, la propria carta d'identità e quindi viene individuato poi la tipologia di immobili come data tasto del Comune di Bari associato alla carta d'identità. Basta cliccare sull'immobile e quindi c'è l'elaboratore e viene elaborato l'F24.